Stato di agitazione del personale dirigente del comparto di sanità della Asluno, proclamato dal sedacato Narsind, che torna sulle gravi terenze di personale in tutte le strutture sanitarie provinciali. Ad annunciarlo è stato Antonio Santilli, segretario provinciale Narsind, che ha chiesto un incontro al prefetto, dichiarando in anticipo che se non si raggiungerà un accordo, ci saranno due o più giornate di sciopero. Non solo, il Narsind si è riservato di denunciare alla Procura della Repubblica i fatti che pongono a rischio la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Se a stretto giro non ci saranno piani organizzativi concreti. Nelle strutture per il sindacato la sicurezza del paziente è fattore scindibile dalla sicurezza degli operatori sanitari e nell'una e nell'altra possono ritenersi garantite se responsabili della gestione non realizzano le azioni necessarie di natura strutturale e funzionale. Tra queste l'assetto organico del personale è fondamentale. C'è una costante emergenza organizzativa dovuta a una carenza di personale cronica, aggravata dai contagi Covid. È una carenza personale cronica, quella che da anni e anni noi viviamo in questo. In più, questi 23 mesi di pandemia che hanno veramente fatto arrivare all'estremo il personale, posso citarne tutti i riparti, in particolare dialisi, oncologia, le medicine in generale, sono riparti chiusi perché non c'è il personale per riaprirli. hanno accorpato, ma non perché, perché proprio c'è carenza. E noi, è il problema serio, che ci sono sempre promesse, ma mai mantenuti. E un altro problema è che, cioè, da quando abbiamo sollevato il problema, da prima di Natale, dopo Natale, tra Natale, anche a Capodanno stesso, sollevato il problema, perché poi il personale, abbiamo avuto anche noi positivi, e tra di noi, per cui queste persone positive, mai sostituite, quindi immagina in dialisi dell'Aquila si viene a fare la dialisi a 22 persone la mattina con tre o quattro infermiere, che non è il numero legale. La carenza c'è sempre, è rimasta sempre, non c'è serietà per risolvere il problema da parte dell'azienda. Per il sindacato un'altra problematica è la mancata correspensione in favore del personale del comparto della tariffa oraria per prestazioni aggiuntive, un'evidente violazione del principio di imparzialità e con la discriminazione tra categorie professionali da parte della direzione ASDA, scrive la Narsind, che il sindacato giudica irragionevoli, appunto, arbitrarie e inaccettabili.